Fare l'allenatore di calcio è uno dei lavori più solitari che esistano. Mi sento solo anche quando sono circondato da una folla di gente. Le persone che vedi quando vinci e sei in ascesa spariscono quando inizi a perdere, perché sei tu che hai sempre l'ultima parola. Inoltre, se non sei pronto a pagare il prezzo, non dovresti mai fare l'allenatore. In tutta questa solitudine non mi sono mai rivolto a nessuno. Sono sempre venuto direttamente a casa. E tenevo duro insieme a mia moglie e alle mie figlie. Combattevo la desolazione insieme alla mia famiglia. Il mio rifugio sicuro è sempre stata la mia casa, la mia famiglia.